Attesa per la partenza dei saldi estivi, opportunità per commercianti e cittadini. Se fino ad ora più di qualcuno ha rimandato gli acquisti per risparmiare in un periodo difficile, in molti ora stanno iniziando a valutare compere da fare in tempo di saldi. Gli sconti partiranno il 3 luglio e proseguiranno fino al 30 agosto. Per aiutare le attività economiche che hanno sofferto molto a causa della pandemia, per il solo 2021 la Regione Veneto ha concesso un'aderoga con la possibilità per le attività di anticipare i saldi con vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti alla data ufficiale. Un'opportunità che è stata accolta favorevolmente da molti negozianti nella fase di ripartenza.